Kate Middleton si è rivelata una figura formidabile quando il principe Harry e il principe William si sono incontrati per la prima volta dopo l'intervista bomba del primo con Oprah Winfrey, ha affermato un esperto, la duchessa di Cambridge si prepara a recitare un ruolo in un evento vicino al marito il principe William, Third Shot Prize Awards. La cerimonia di premiazione, prevista per domenica, vedrà il tappeto verde srotolato per una lunga lista di celebrità accostellate di star mentre vengono consegnati i primi premi. Si terranno esibizioni di artisti del calibro di Coldplay, Ed Sheeran, Yemi Alade, KSI e Shawn Mendes, con cinque vincitori le cui soluzioni aiutano sostanzialmente l'ambiente a ricevere un bel premio in denaro, lanciato dalla Duke and the Royal Foundation nell'ottobre 2020. Third Shot Prize è stato ispirato dal programma Moonshot del presidente John F. Kennedy negli anni Sessanta, che univa milioni di persone intorno all'obiettivo di raggiungere la Luna. Kate accompagnerà William all'evento inaugurale, che avrà luogo all'Alexander Palace di Londra. La duchessa è stata un pilastro su cui William si è appoggiato negli ultimi anni, supportandolo durante la epocale ricaduta dell'uscita di Meghan Markle e del principe Harry dalla famiglia reale. Da allora molti l'hanno elogiata per essersi trasferita per riconciliare i fratelli, cosa che è stata vista durante il funerale del principe Filippo all'inizio di quest'anno. I commentatori reali hanno analizzato il modo in cui, all'uscita dalla cerimonia, Kate ha manovrato i due fratelli insieme e li ha lasciati soli a parlare. Bidisha, un emittente che ha parlato durante il documentario del 2021 di Channel 5 Kate, la nostra regina in attesa, ha dichiarato, Kate stessa sembra indietreggiare poco per consentire ai principi di camminare l'uno accanto all'altro direttamente come se stesse dicendo, guardate, ragazzi. Dobbiamo presentare un fronte unito. Kate Nicole, un'autrice reale, ha osservato, penso che se guardi la duchessa di Cambridge quel giorno, pensi, è piuttosto formidabile. Lei è una risorsa piuttosto grande. Grazie a tutti. Grazie a tutti.